buongiorno salve a tutti gli amici del mio canale oggi andremo a preparare il spaghetto alle vongole bianchi senza pomodorini ecco la mia versione spiccio raglio peperoncino olio evo goccia di vino bianco andiamo a vedere la preparazione amici togliamo i gambi del prezzemolo da parte e il resto lo andiamo a tritare iniziamo a tritare il prezzemolo così lo mettiamo da parte mettiamo il prezzemolo finamente così ci servirà dopo da mettere a fresco sopra al piatto ragazzi per due persone occorrono 500 grammi di vongole ovviamente ogni vongola io l'ho battuta sul lavello e ho visto se cacciava se qualcuno si aprisse la buttavo lo spurgate due volte in acqua e sale coppio ecco qui fila d'olio evo gambi di prezzemolo e spiccio d'aglio andiamo a riporre le vongole uno bianco man mano che si aprono le togliamo appena si aprono si tolgono oggi usiamo uno spaghetto numero 12 della riciccua ecco qui in acqua già salata dobbiamo mettere gli spaghetti a tempo si stanno aprendo anche le vongole ecco qui ragazzi man mano che si aprono le dobbiamo togliere se vogliamo mangiare le vongole fresche ecco qui amici le vongole si sono aperte adesso andremo a filtrare l'olio con un colino per evitare che ci siano impurità di sabbia o qualche brucia di vongole le vongole abbiamo messe da parte ok scusciamo qualche vongole le metto dentro una pasta prendiamo una padella più grande mettiamo il sugo delle vongole e saliamo gli spaghetti direttamente nel sugo ok aggiungiamo due premessoli di acqua di cottura ricca di amido e facciamo saltare facciamo una bella alta amici siccome che il vino riduce la qualità del peperoncino io lo metto nella pasta a metà cottura assieme alle vongole che abbiamo usciato prima ci mettiamo anche questo e qua per guarnire il piatto come abbiamo lasciato giusto 4 5 vongole con i cusci finitura ci mettiamo anche il prezzimolo quando saranno cotti ok la pasta è cotta adesso a fugo spinto andremo a mettere il prezzimolo con l'ante prezzimolo e andiamo a impiattare ok andiamo a impiattare amici ho soltanta grammi di pasta a testa ok andiamo a mettere qualche vongoletta per non ornamentare il piatto mettiamoci un po' di sudetto sopra anche l'altro piatto ok amici guardate qua guardate qua che spettacolo spolveratina di prezzimolo sopra giusto appena appena un po' ed ecco a voi buona domenica grazie a tutti